Buongiorno a tutti voi esseri pensanti fatti di proteine Ma voi ve lo siete mai chiesti cosa diavolo sia una proteina? No no non parlo a voi biologi saputelli, parlo a tutti gli altri Che diavolo è una proteina? Perché tutti parlano di questa proteina Spike? Zitto Spike non ce l'ho con te! Scusate ho preso un cane peluche in autostrada Ma vi sa che ce lo riporto Proteine, una parola magica pronunciata almeno 12 volte al giorno dai vegani E 70 volte al giorno da quelli che fanno palestra Protein rocks! Protein! Onesto Volevo parlarvi delle proteine con un riferimento particolare alla proteina Spike della SARS-CoV-2 Anche perché in mezzo c'è tutto il discorso di mutazioni eccetera eccetera E a giudicare dai dibattiti televisivi o da mio cugino su Facebook C'è una discreta confusione in merito Quindi spero di essere utile nel mio piccolo Quanto meno anche solo per trasmettervi un pochetto della complessità in gioco quando parliamo di questa roba Vi racconto un po' le basi ovviamente iper semplificate di biologia molecolare Così possiamo allungare un po' il passo e parlare anche del discorso di mutazioni, biologia computazionale eccetera eccetera Ma prima di partire lasciatemi presentare lo sponsor di oggi Io! Sì! Ho scritto un libro! Sì, un altro Scusate giuro che non smetto di scrivere libri Prima o poi Non lo so qua La versione del Tardigrado Improbabile Edito da De Agostini e con i disegni di Macchiavello Ho richiesto la sua partecipazione perché sono innamorato dei suoi disegni dall'epoca di questa pubblicità Che bella ero! Ho scritto questo libro per raccontare la storia della nascita degli atomi Quella che poi tra l'altro avevo riportato in forma super condensata durante il TED Passando poi alla nascita delle molecole, dei polimeri, delle cellule, degli organismi pluricellulari eccetera eccetera Il tutto fatto rigorosamente come solo a noi piace fare Esatto L'ho scritto anche per un'altra ragione Tutti i miei libri precedenti erano libri strettamente per adulti Comunque avevano un linguaggio che direi che non è esattamente per tutti Questo invece vuole essere per tutti tutti Spero Anche perché non ci ho messo parolacce Non ce ne sono Signore e signori un libro senza parole incredibile Non abituatevi troppo però Così potete regalarlo anche al giovane vicino di casa che vi sputa nel cortile O alla zia quella che va sempre in chiesa e si scandalizza quando qualcuno dice per dincibacco Ve lo potete regalare o lo potete regalare a chi vi pare senza che poi mi si venga a dire Qualcuno pensi ai bambini Detto questo non è un libro per bambini Anche per E' un libro per tutti E' un libro per ragazzi o per adulti O nel caso in cui sia un libro per bambini E' un libro per bambini molto intelligenti Sono ufficialmente aperti i preordini Vi lascio il link in descrizione Dateci dentro Moving on Dato che in questo libro ho raccontato anche delle proteine Di come sono costituite Di come potrebbero essere apparse per la prima volta sul pianeta Di cosa fanno nella vita Dove vanno con chi bevono eccetera eccetera Ho deciso di farci questo piccolo approfondimento Parlando principalmente della proteina spike però indirettamente Per dire quando vedete rappresentato un coronavirus Le proteine spike sono rappresentate da questi chiodini che circondano il virus Ed effettivamente quando si guardano al microscopio sembrano proprio dei chiodini che circondano la pannozza Delle spike però Come ormai saprete Ormai lo sanno pure gli acari Questa proteina è la chiave d'ingresso del virus nelle nostre cellule Questa spike interagisce con un ricettore umano che si chiama ACE2 E la cellula dice tipo prego signore si accomodi Voglio fare l'uscita Ti d'amore Se ACE2 è la serratura della porta la spike è la chiave E fin qua ok tutto a posto ne hanno parlato un sacco Però ho ancora l'impressione che in moltissimi non abbiano capito bene la complessità in gioco E soprattutto di quanto sia incredibile e casuale il gioco dell'evoluzione che ha portato ad avere questo meccanismo qui Quindi proviamo a raccontarlo Qui in questo luogo rigorosamente male Tenendo sempre presente che il SARS-CoV-2 è per l'appunto un virus Quindi tecnicamente non è manco classificato come essere vivente E decisamente non è mosso da alcun volere o alcun obiettivo Semplicemente lo possiamo immaginare come una sorta di macchina molecolare impazzita È considerato però un parassita obbligato Perché per riprodursi, per fare copie di sé Ha bisogno di sfruttare un altro essere vivente In questo caso te Ricordate che come vi avevo già raccontato, volendo stilizzare il virus Possiamo immaginarlo come una scatolina vuota Costituita principalmente di proteine Attorno a questa ci sono le proteine Spike Che servono per appunto questi chiodini Che servono per appunto al virus per essere... Per riuscire ad entrare all'interno della cellula Mamma mia che rappresentazione fotorealistica Mentre dentro ci sta il materiale genetico In questo caso RNA Che possiamo rappresentarlo così con una piccola catena Ma in realtà il virus è proprio questo RNA Tutto il resto, la scatola, i chiodini tutti intorno Non sono che un mero veicolo, un mero mezzo Con cui il virus viaggia ed entra all'interno delle nostre cellule Una volta dentro la particella virale espellerà Tipo pus dei brufoli, il materiale genetico In questo caso RNA E quando sentiamo che il virus è mutato Quindi non lo so, si è modificata un po' con la proteina Spike Si è modificato un pochino il capside Significa che ad essere effettivamente mutata È l'informazione Cioè questo è sempre lui Se qui cambia, se cambiano le istruzioni Cambia anche tutto il contesto Finito questo ripassino Vediamo insieme in maniera super easy Come vengono prodotte le proteine nel nostro di corpo Tanto il virus sfrutta proprio il nostro meccanismo Usa le nostre cellule per riprodursi Ci sta, no? Se c'è una cosa da sapere nel mondo della biologia Che potete condividere anche ai pranzi di Natale Facendo bella figura con i vostri zii ubriachi È questo concetto semplice semplice Nel DNA c'è scritto come fare le proteine Le proteine sono fatte da aminoacidi Nel DNA quindi è scritto come attaccare insieme questi aminoacidi Per fare le proteine Facile Le proteine non sono altro che catene di aminoacidi Messi in fila Attaccate insieme come mattoncini È un po' come fare un lungo spaghetto ma di Lego Che però poi si accartoccia da se stesso Fino a formare, a diventare un gomitolo Uno spaghetto di Lego raggomitolato Ed è proprio così che bisogna immaginare le vostre proteine Non come uno spaghetto di Lego ovviamente Ma come delle strutture tridimensionali Tutte accartocciate, bellissime Risultato di anni e anni di raffinata evoluzione E in ogni singola cellula del mio corpo c'è il mio DNA A prescindere da quale sia la cellula Una cellula dell'occhio, della prostata o del culo C'è sempre il mio DNA E lì ci sono riportate tutte le informazioni per fare Meh E mi raccomando non copiate perché Che già ci sono un sacco di errori qui Sono i miei errori però Tutte le informazioni per tutto il corpo O meglio tutte le proteine del nostro corpo Questo nostro DNA, queste nostre informazioni Sono come un'enciclopedia In cui è riportato tutto Fate vinta che questa sia un'enciclopedia Ok Dicevo, è come un'enciclopedia No Questo è il nostro genoma Questo è il nostro DNA Ma è diviso in volumi Questo ad esempio è un volume Noi esseri umani abbiamo 23 volumi Che arrivano dal papà E 23 volumi che arrivano dalla mamma Per un totale di 46 volumi Questi volumi sono ovviamente i cromosomi Sono 46, è facile Sono gli anni di Cristo più 13 Come potresti mai dimenticare In ogni volume Però ci sono scritte delle cose No? E queste cose sono scritte in capitoli Questo è l'inizio in un capitolo Il capitolo finisce qua Eccetera eccetera Questi capitoli si chiamano geni Madonna che esempi banali E li fanno tutti quanti Insomma, ricapitolando DNA Cromosoma Geni Singoli Capitoli Quanti geni ci sono? Ah boh Tanti, tantissimi Se ne stimano circa 20.000 degli esseri umani Sono tanti che cazzo E' molto peggio tra la fusione tra guerra e pace La Bibbia E il manuale dell'IKEA di agosto La cosa bella è che ognuno di questi geni Di questi capitoli Serve a sintetizzare una diversa proteina Ok sto semplificando Già me li vedo i biologi molecolari ad incazzarsi di brutto Shakura voi Shakura voi A volere essere pignoli In realtà i geni codificano anche per RNA E poi un solo gene può codificare anche per più proteine Senza considerare che ci sono anche parti di DNA che non sono codificanti Insomma è un casino Ma ora giusto per capirci Ce lo faccio mandere bene Sto semplificando Ok Oh ok Però adesso le cose si complicano Come saprete dai tempi di Esplorando il corpo umano Nel DNA ci puoi trovare quattro diversi mattoncini Quattro lettere se preferite Le quattro basi azotate La A che è la denina La T che è la timina La C che è la citosina E la G che è la guanina Quindi A, T, C e G Le quattro basi azotate Più potenti delle super chicche Ora immaginatevi di leggere il DNA Diciamo che vogliamo leggere il volume 23 capitolo 12 Io apro e leggerei A, C, G, G, C, T, A, G, Quintac, T, A Che è sta cosa? Non si capisce niente Chi è che ha scritto sto libro? Non si capisce? Tutto questo ho ripetuto migliaia e migliaia di volte È un incubo Se volessi leggere tutta la nostra enciclopedia Ci sarebbero circa 3 miliardi di lettere da leggere Io non ho tutto questo tempo per Bob Per fortuna esiste una leggenda Oh, meno male Ad ogni 3 lettere corrisponde uno specifico amminoacido Ora facciamo un esempio Se il DNA fosse uno spartito musicale E le mie dita fossero i quattro tasti del pianoforte A, T, C e G In base alle 3 note che trovo nello spartito Esce una diversa melodia Ogni piccola melodia è un amminoacido diverso Pa, pa, ra, pa, 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 A, T, C, C, T, A Sono due miliardi diversi Pa, pa, ra, pa, pa, G, 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 C, C, C Anche questi sono diversi Pa, pa, ra e così via Facile, no? Ci state capendo un cazzo? Scusate, sono una persona caotica Giuro che ho scritto meglio Ovviamente però, dici tu, il DNA è una catena immensa di ste lettere Come fai tu a capire in che punto iniziare a leggere? E che lo prendi a caso Ma ti pare che lo prendi a casaccio? Ma che sei scello? Infatti ci sono delle triplette di queste lettere Che non servono a codificare un amminoacido Ma sono dei comandi Ci sono le triplette, ad esempio, che dicono Ok, il capitolo inizia da qui, inizia a leggere da qui E quelle che dicono Il capitolo è finito, non leggere più, mi raccomando Almeno così sai dove inizia la scrittura di una proteina E dove finisce e non ti perdono Ovviamente tutto questo è scritto nel DNA Ma poi a fare il lavoro sporco Cioè leggere le informazioni Prendere un amminoacido alla volta Appiccicarli insieme per costruire sta cacchio di proteina bella e funzionante È un enzima Un enzima che si chiama ribosoma È una figata come funziona il ribosoma Sembra una catena di montaggio per via Però oggi andiamo veloce e dopo semplificare il tutto Perché non è questo il punto Quindi mettiamo che sul DNA ci sta scritto l'esempio TTT L'informazione arriva al ribosoma Legge che sul DNA ci ha scritto TTT E sa che quell'amminoacido corrisponde alla fenilalanina E la prende Dopodiché rimane là e aspetta Poi sul DNA ci ha scritto CAA E subito il ribosoma prenderebbe una glutamina E l'attaccherebbe alla fenilalanina di prima E così via Qual è il prossimo? Intanto la catena si allunga E man mano che questa catena cresce Si allunga ed esce dal ribosoma Inizia già ad attorcigliarsi Tutta su se stessa A formare un bel gomitolo Tutto complicato A un certo punto Dopo essere uscita questa lunghissima catena di aminoacidi Il ribosoma legge che sul DNA ci ha scritto TAA Oppure TAG Oppure TGA Che sono le tre combinazioni di lettere Che significano Stop Basta E finito E a quel punto Che fa lui? Libera la catena di aminoacidi E top Hai ottenuto una bella proteina Tutta bella funzionante Però qui la cosa assurda Tutto sto pippozzo che vi ho fatto Era proprio per questo Uno si potrebbe a questo punto immaginare Che una proteina non sia altro che una catena lineare di aminoacidi No? Dritta dritta Come uno spaghetto secco E invece no Per l'appunto si accartoccia Non solo Ogni proteina si accartoccia sempre Esattamente allo stesso modo Oh non è una cosa banale Riuscite a immaginare ad esempio Di prendere due fogli di carta Accartocciarli E ottenere esattamente Lo stesso identico Preciso Spiacicato Foglio accartocciato Ma proprio a livello molecolare Identico in tutto e per tutto Ma manco in un milione di anni Nonostante questa operazione Sia notevolmente più semplice Di accartocciare una proteina Le proteine però ci riescono sempre Sempre E questo perché gli aminoacidi Che compongono la proteina Hanno tutti proprietà diverse Alcuni rendono la catena più facile Da ripiegarsi in quel determinato punto Altri la rendono più rigida Altri creano ingombri fastidiosi Altri possono formare tra di loro Dei legami deboli Appiccicandosi fra di loro Come la colla Altri ancora si respingono Altri si legano in modo forte Indissolubile Ci sono quelli idrofobici Che odiano l'acqua E che quindi si vanno a nascondere Dentro il groviglio Formando tasche e caverne Aggregati per tenersi proprio lontani Dall'acqua O addirittura per respingere l'acqua Da questi anfratti Altri invece sono idrofili Cioè amano l'acqua Così tanto che ci si gettano dentro Cioè sono proprio affacciati Si catapultano Si tuffano Mettendosi all'esterno Di tutto questo groviglio Perché proprio gli piace l'acqua Alcune poi messe in successione Formano delle strutture Particolarmente complesse Come quelle chiamate Alfa-eliche O beta-foglietto O dei ripiegamenti Completamente casuali O apparentemente casuali Insomma la cosa incredibile È che nonostante queste proteine Siano immense Lunghissime Grazie a queste cose A queste interazioni Si ripiegano sempre tutte Nello stesso identico modo Questa roba Prende il nome di Folding E meno male che funziona così Perché anche Un singolo amminoacido Fuoriposto O messo nella posizione sbagliata Farebbe cambiare tutto Completamente E la proteina poi Non funzionerebbe Non c'è spazio Per errori E tutto questo per dire Che il folding amminoacidico Di una proteina È un vero casino L'emoglobina per esempio Si accartoccia graficamente Così Sempre Che sembra una cosa Fatta a cazzo di cane Ma in realtà È una struttura ingegneristica Super complicata E perfetta Ovviamente questo è vero Se Rimaniamo In acqua Se voi cambiate il solvente Cambia tutto Infatti Quando vuoi denaturare una proteina Cioè sbrogliarla tutta Che fai? La metti in etanolo Per esempio E lì sminchi Tutte le interazioni amminoacidiche Nella catena E quindi Si apre Quindi cercate di tenervi idratati Non si sa mai Il collagene Per dire Che non è nemmeno Una delle più grandi proteine Ha 1055 amminoacidi E si ripiega sempre Nello stesso identico modo È una cosa incredibile E tenete anche presente A complicare ulteriormente Questa situazione Che alcune proteine Per funzionare Devono essere formate Da aggregati di più proteine Queste strutture Prendono il nome Di strutture quaternarie È incredibile Assurdo Insomma È no burdel Tenetelo a mente Quando parliamo Della proteina spike Perché uno pensa Che sia una sciocchezza Che sia un chiodino Ma il chiodino Sto cazzo Ovviamente però Ci tengo a precisarlo Come sempre Il DNA delle nostre cellule È al sicuro All'interno del nucleo Mentre il ribosoma Questo enzima È fuori dal nucleo A lui non è concesso A lui non è concesso Entrare Le informazioni quindi A storibosoma Ce le deve portare qualcuno Per fortuna Nel nucleo Ci sono degli enzimi Che hanno il compito Di aprire e sbrogliare Tutto il DNA Poi arriva un altro enzima Che si chiama RNA polimerasi Che trascrive Che ricopia Il pezzo di DNA Che serve Fa una copia carbone Ma in formato RNA Appunto per questo Si chiama RNA polimerasi Un pezzo di RNA Se non sapete cosa sia È uguale a un pezzo di DNA Più o meno Solo che per non confondersi Invece di avere una lettera Un'attimina Come base azotata Utilizza un uracile Una lettera U In sostanza è uguale A questo punto Questa copia di RNA Fatta nel nucleo Sul DNA Viene portata fuori Dal nucleo Al ribosoma Così quello L'aprete E ci può fare una proteina Questo serve anche Per evitare di sgualcire La copia originale Cioè di DNA Che se succede qualcosa A quella Poi è un casino Questa copia In versione RNA Che viene portata fuori Dal nucleo Prende il nome Di RNA messaggero Per l'appunto Perché porta un messaggio Questo è il suo compito O la troverete chiamata Anche come mRNA In formato breve Vi ricorda qualcosa? I vaccini a mRNA Sostanzialmente Portano un pezzettino Di RNA del virus Che funge da RNA messaggero Per questo si dice A mRNA Portano il pezzettino Dell'RNA del virus Che serve Soltanto Solo quello A sintetizzare La proteina spike Quindi il chiodino In questo modo Le nostre cellule Attraverso il ribosoma Leggono quelle informazioni Sintetizzano Soltanto il chiodino Soltanto la proteina spike Che di per sé È innocuo Non fa niente Non serve a niente Quella era una componente Necessaria al virus Per entrare nel cellule Ma fin quando Non hai l'RNA completo Del virus Quindi il vaccino Ci fa sintetizzare Nel nostro corpo Questa proteina spike Però il nostro sistema immunitario Impara a riconoscerla E nel caso in cui Dovessimo mai Entrare in contatto Col virus Quello completo Riconosceremmo Quella proteina spike Appiccicata a lui E lo meneremo subito Insomma Sostanza Ora Tutto sto pippozzo L'ho fatto Per una ragione Precisa Spostiamoci di nuovo Dal DNA della cellula umana All'RNA del virus Nell'RNA del virus Ci sono scritte Tutte le istruzioni Per produrre Copie Complete del virus Ma come sempre Sono scritte In triplette di lettere Come nel nostro DNA Ad ogni tre lettere Corrisponderà un aminoacido Il problema È che le informazioni Di questo virus Possono per errore Cambiare Mutare Durante la copia La trascrizione L'RNA A differenza del DNA È molto meno stabile Quindi quando viene ricopiato È soggetto a molti Ma molti più errori Molto più spesso Quanto meno In altre parole Ogni volta che il virus Entra in una cellula E fa copie di sé Si può correre il rischio Che si presenti una mutazione E questo è il motivo Principale Per cui si ha molta paura Della circolazione del virus Più il virus circola Più copie fa di sé Più aumenta il rischio Che una di queste mutazioni Produca una variante Più incazzata Anche perché Quando infetta Produce migliaia E migliaia di copie Ma ogni tanto Una lettera la sbaglia Ma se sbaglia una lettera Cambia un aminoacido E quindi Cambia tutta la struttura Di che ne so Il capside Questa scatoletta O Peggio Della proteina spike Vediamo insieme Cosa potrebbe succedere Supponiamo che questo sia L'RNA del virus Ha infettato una cellula Ha iniziato a creare copie di sé Per semplicità Diciamo che Qui in questo nostro esempio Lui ha fatto tre copie di sé E che queste tre copie Portano con sé Degli errori Abbiamo la copia uno La copia due La copia tre In questo caso Nella copia uno Abbiamo un errore qui Ad esempio Nella copia due Abbiamo un errore qui E nella copia tre Abbiamo un errore qui A questo punto Che cosa si ottiene? Supponiamo che questo Sia un errore neutro Quindi Insomma Non fa né caldo né freddo Il virus funziona bene Nello stesso modo Questo sia un errore neutro Questo invece È un errore svantaggioso Cioè Questo virus Non funziona più bene Come funzionava prima Quindi questo qua È destinato a riprodursi Molto più lentamente Degli altri Ad esempio E quindi A un certo punto Sparirà Ognuno di questi Si riproduce Supponiamo Altre due volte Producendo altri due errori Quindi a questo punto Cosa abbiamo? Abbiamo 4 RNA di virus In questo c'è ancora L'errore di prima Però c'è un nuovo errore Ad esempio qui Qui c'è l'errore di prima E un nuovo errore Casomai qui Qui c'è l'errore di prima E un altro errore qui E qui sempre l'errore di prima Più un altro errore Questa volta qui A questo punto Ad esempio Supponiamo che Questa qua Non funzioni più particolarmente bene Quindi questa sparisce Questa qua Non funzioni più particolarmente bene Quindi sparisce Questi qua Sono ancora Mutazioni neutre E lui continua a mutare A un certo punto Che succede? Questo muta ancora Diciamo altre due volte Abbiamo di nuovo 4 versioni del virus Qui in questo caso Abbiamo una mutazione qua Una mutazione qua Ad esempio una mutazione qua Qui sempre una mutazione Ce l'avevamo qua Una ce l'avevamo qua E una extra Ce l'abbiamo qua Qui avevamo una mutazione qui Una mutazione qui E ne abbiamo un'altra qui E qui sempre Una mutazione qui Una mutazione qui E un'altra qui Che cosa succede adesso? Potrebbe essere Che queste mutazioni casuali Ricordiamo che Quando parlo di mutazioni Queste X rappresentano Una singola base azotata Che è stata cambiata Ad esempio Qui c'era A Ed è stato messo C Qui c'era C Ed è stato messo G Eccetera eccetera Questi singoli errori Però si ripercuotono Anche negli amminoacidi Se io cambio Una singola base azotata Nella tripletta Cambio completamente L'amminoacido E in questo caso Potrebbe essere Che ad esempio Questa mutazione Sia una mutazione Molto vincente Perché questa somma Di mutazioni Ha causato Un cambio Piccolissimo Impercettibile Imprevedibile Nella proteina spike Che ovviamente È scritta qua Come è fatta la proteina spike E rendendola più efficace E più efficiente In grado ad esempio Di entrare molto più facilmente All'interno delle cellule Ecco qui Che si è originata Una nuova variante Di cui aver paura Più il virus si riproduce Più ci sono probabilità Che una nuova variante efficace Venga a galla Queste altre ad esempio Se sono neutre Continuano a propagarsi Se a un certo punto Diventano svantaggiose Questa qua ad esempio Potrebbe essere una Che ha invece Ha prodotto degli errori Che la rendono più lenta Nelle replicarsi Oppure la rendono meno efficace Nell'entrare nelle cellule O meno resistente A una condizione climatica Ambientale O quant'altro Questa tenderà a sparire Perché verrà soppiantata Dalla variante più efficace Questa si chiama Selezione naturale Piccola parentesi Quando vi dicono ovviamente Che il vaccino Causa le mutazioni Non ha senso A causare le mutazioni È la gente che si infetta E che propaga il virus Permettendogli di riprodursi E quindi Di arrischiarsi A creare nuovi errori Nuove varianti Cambia una lettera oggi Una lettera domani La sua struttura potrebbe diventare Estremamente diversa E per selezione naturale Prima o poi Ne potrebbe uscire Una molto più efficace In modi imprevedibili Ed è questo il punto Domanda Potremmo sapere Quali amminoacidi Se cambiati All'interno della catena Della proteina spike Con altri ad esempio Siano in grado Di renderla Molto più efficace Ad entrare nelle cellule Risposta No Non abbiamo Assolutamente i mezzi Al momento Per prevedere Una roba del genere Che è complicata In modo impensabile Tenete presente Che la proteina spike È costituita Da quasi 1300 amminoacidi Tutti accartocciati insieme E a rendere la cosa Ancora più incasinata Considerate che Di base Prima di entrare In un organismo La proteina spike Non è manco attiva Cioè la proteina spike Del virus Di per sé Non funziona Ma come dirai Ironia della sorte Noi abbiamo Degli enzimi Delle proteasi Che tagliano Questa proteina In un determinato punto Causando però Un cambio di conformazione Che la fanno diventare attiva E solo in quel punto È in grado Di legarsi Ai nostri recettori Cioè insomma Ce la attiviamo da soli Sto enzima taglia Questa si modifica In modi veramente Incredibili E diventa più efficace È in grado Di finalmente legarsi È una cosa assurda Cioè Impossibile Ma ti rendi conto Del bordello Di questa roba Noi non abbiamo Assolutamente I mezzi Per prevedere Una cosa del genere Cioè su carta Dire hai una catena Così lunga Si accartoccia In questo esatto Preciso modo Poi c'è un enzima Che tu non è previsto Che va a tagliare In questo punto Questa si rimodifica In modi veramente Che tu non potresti mai Manco immaginare E a quel punto È efficace Ma da dove si inizia È impossibile Pensate che Quando ho lavorato Per pochissimo tempo In chimica computazionale Cioè usando dei programmi Avanzatissimi informatici Per studiare Le interazioni Tra molecole Comunque piccole Generalmente tu Preparavi il programma Lo lanciavi Te ne andavi Per due giorni Poi dopo due giorni Tornavi E vedevi Il risultato E generalmente C'era qualcosa di sbagliato E dovevi rifarlo Quindi era molto divertente E questo Per delle molecole Tutto sommato Veramente piccole Perché Insomma Le molecole a cui Lavoravo io Erano molecole Da Boh Dico assai Sette atomi Cioè una cosa proprio Immaginate per proteine Che superano Migliaia di amminoacidi Legati tra di loro Amminoacidi Che sono molecole Con in totale Qualcosa tipo Milioni di atomi legati Che interagiscono Tutte quanti insieme Che si ripiegano Tutte quanti insieme Che casomai Devono interagire All'interno del programma Pure con altre proteine Ugualmente complesse Ma cosa Impossibile Per ora È una cosa ancora Inimmaginabile C'è oggi tutta una branca Della bioinformatica Che cerca proprio Dei modi Per prevedere Come si accartoccerebbe Una proteina Per dire Come si comporterebbe Come interagirebbe Con un'altra proteina Eccetera eccetera Ma ancora Non ci riusciamo A prevederle in pieno Queste cose È un casino Per proteine piccole Ancora ancora Ma per quelle grandi Proprio follia Anche se Di recente Delle aziende farmaceutiche Europee Pare che siano riuscite Effettivamente A sfruttare L'intelligenza artificiale Per simili scopi Parliamo di una roba Di fine 2020 Quindi proprio Recente recente Hanno dato in pasto All'intelligenza artificiale Una lista di amminoacidi Legati E quella Circa il 90% Delle volte Riusciva a produrre Un modello tridimensionale Abbastanza esatto Della proteina Certo non si tratta Comunque di proteine Esageratamente complesse Però Stiamo facendo passi Da gigante In quella direzione Considerate che questo Ha uno scopo Applicativo Enorme Perché ovviamente Aiuterà a sintetizzare A produrre Dei farmaci Molto più Efficaci Si possono prevedere Ad esempio Quali sono le interazioni Tra proteine Di un virus Nuovo Che ancora Non conosciamo E determinate proteine Del nostro corpo Insomma In generale Potrebbe permetterci Davvero Di ottenere Dei farmaci Molto più efficaci E in modo più mirato C'è da esultare Direi Anche se ci vorrà Un bel po' Per ottenere questo scopo Purtroppo per ora Il caso E l'evoluzione Sembrano essere Ancora Una tecnologia Troppo avanzata Per noi Una roba del genere Come quella che accade Per la proteina spike È una roba Veramente di Adattamento Evolutivo Incredibile È inimmaginabile Per un essere umano O per un'intelligenza artificiale Al momento Io spero di avervi Fatto comprendere Quanto meno Un pochetto Della complessità Di questa Di questo argomento A me lascia Davvero sconvolto Infatti Ci ho dedicato Un intero capitolo Del libro E a tal proposito Vi ricordo ancora una volta Che sono aperti I preordini Per la versione Del tardigrado Improvabile Un libro fantastico Perché è di barbascura Ex Vale la pena leggerlo Anche solo per il fatto Che il narratore È Vincenzo Non so se lo vedete L'ho dovuto mettere Così Nella boccetta Perché si stava citando Comunque sì È lui il narratore Del libro E diciamocelo Vincenzo Spack Spack Ci vediamo presto Pirati